Mi chiamo Anna Pitarelli, ho 38 anni, sono laureata in giurisprudenza e lavoro nell'amministrazione provinciale, sono presidente del Consiglio di circoscrizione Gria San Quirino e presidente dell'associazione Bolzano Domani. Mi candido sulla lista delle SVP con il gruppo Bolzano Domani. Noi siamo per il rinnovamento della città, siamo 7 candidate e candidati giovani che vogliamo portare avanti qualcosa per la città, per lo sviluppo della città, per l'economia della città. Vogliamo che vengano creati dei posti di lavoro soprattutto per giovani perché giovani hanno bisogno di prospettive anche a Bolzano e questo è molto importante. non è possibile che giovani che sono formati, che sono qualificati non trovano posto di lavoro a Bolzano e non hanno le possibilità di finanziarsi un'abitazione. È importante la convivenza con tutti i gruppi linguistici che deve essere ancora rafforzata di più, per questo è importante che noi sosteniamo effettivamente le esigenze di tutti i cittadini e tutte le cittadine.